È tanto attesa la festa di San Giuseppe che è anche il protettore dei papai e dei lavoratori tutti e in particolare a Caltanissetta sono a lui i devoti, i falegnami, gli ebanisti della real maestranza. Già da domenica scorsa con un primo omaggio floreale la rappresentanza della corporazione di questi lavoratori si è recata nella chiesa dedicata al santo per fare un omaggio. Proprio nel cuore della città lì si sono svolti incontri di preghiera durante la settimana che ha voluto ha potuto portare alimenti e beni di prima necessità per le famiglie più bisognose. Così sabato prossimo saranno sette le celebrazioni che dalle 8 e 30 del mattino fino alle 19 si svolgeranno nella chiesa di San Giuseppe dove come da tradizione verrà benedetto e distribuito il pane.